Buongiorno a tutti, buon sabato Sembrano le 7 di sera ma vi giuro che sono ormai quasi le 10 di mattina Il problema è che è bruttissimo tempo qui a Roma Il sole si sta facendo desiderare, devo dire Non siamo abituati Siamo abituati al sole la maggior parte dei giorni della settimana Però pazienza dai Allora Video chiacchiereccio come al solito Non si chiacchiererà di un libro soltanto ma di un po' di libri Ovvero degli ultimi arrivati Io so che questi video ho notato che hanno grande seguito Un po' perché siete curiosi come scimmie Io ormai ho imparato a conoscervi E non negatelo, non negate l'evidenza Un po' perché so che a molte persone piacciono Perché riescono così a prendere degli spunti E infatti sono, penso siano i video più seguiti Rispetto ad altri in cui parlo solo di un libro Quelli sì Ammetto che ci vuole una pazienza infinita Per seguire un video che parla solo di un libro E basta Invece qui c'è un po' di dinamismo Si passa da un libro a un altro Poi potete prendere spunti O anche semplicemente curiosare su che cosa ho combinato E allora, che cosa ho combinato? Ho combinato che Due, tre, quattro, cinque, sei libri Mi sono arrivati Dall'ultimo ordine online che ho fatto Quando devo comprare Tanta roba Preferisco comprarla online Quando invece devo comprare Uno, due, massimo tre libri così Spicci Vado in libreria Senza Tranquillamente Però per gli ordini quelli sostanziosi Diciamo che dai quattro libri in su Secondo me conviene online Sì Perlomeno io la vedo così Poi Ognuno è libero di fare ciò che vuole Allora, vabbè, basta Devo sbrigarmi perché L'obiettivo è rimanere entro i 20 minuti Non ce la farò mai Però ci provo Allora, continua La mia avventura Ecco, me ne so scordato uno Sì, quello prima Dov'è? Me lo sono dimenticato Perché l'ho già letto Vabbè Comunque Ho preso Continua la mia lettura Della saga di Martin Che è bellissima Non mi stancherò mai di dirlo Lo urlo ai 4 venti E Devo dire che Era tanto Che non Leggevo una saga così bella Che mi prendesse così E più vado avanti nella lettura E più mi rendo conto Che scrivere libri fantasy È molto molto difficile Devi essere molto molto bravo Peccato che questo sia un genere Secondo me Troppo sottovalutato Perché quando si parla di fantasy Si associa il fantasy ai bambini Cosa mai più sbagliata di questa Chi scrive libri fantasy Per adulti È Ci deve avere Ci deve avere Deve avere una bella capoccia Come si dice Da queste parti E Martin ce l'ha Non ho ancora finito Me lo sto dosando Perché dopo averne letto uno Interrompo e leggo due libri Di altri generi Totalmente diversi Proprio perché Me la voglio gustare Fino alla fine No? Non voglio farla L'indigestione Per poi finirla subito Allora Questi io l'ho pagati 8,50 Invece di 10 In realtà Sono stata un po' stupidina Perché li avevo messi in lista Quando Erano ulteriormente ribassati A 7,50 Ho perso tempo E quindi ho perso anche lo sconto Pazienza Vabbè 8,50 ci posso anche stare Poi Cosa sto leggendo adesso? Questo è Vi ho detto che Interrompo Martin E leggo due libri Di altri generi diversi Questo è il secondo Che sto leggendo Di generi diversi È un thriller Di James H. Roy Allora Sicuramente Tutti conosceranno Il film American Beauty E Black Dahlia O Dahlia Dahlia? Non lo so Vabbè Sì Sono tratti Da libri Di James H. Roy Ci sono capitata Per caso Su questo autore Perché stavo cercando Un bel thriller Da Ordinare E Mi sono imbattuta Nel libro American Beauty Io non ho mai visto Il film So però Che questo film È molto molto famoso In compenso Però Ho visto Black Dahlia Con Scarlett Johansson Che non mi è piaciuto Per niente Cioè L'ho trovato Parecchio noioso Però Non mi sono lasciata Scoraggiare Anzi L'ho presa Come Un'impuntatura Perché noi lettori Sappiamo Che i film Tratti da libri Di solito Fanno sempre schifo O comunque Non sono all'altezza Di ciò che abbiamo letto Quindi che cosa ho pensato Quale migliore occasione Per Riscattare Questa storia E mi sono presa Black Dahlia E il lista O American Beauty Se adesso mi piacerà Lo stile di Roy Penso che prenderò Anche Black Dahlia Sono Guardate Qua Cioè Ho proprio appena iniziato Quindi neanche so Dirvi Se è bello o brutto Non saprei proprio Allora Questo era E non vedete niente Vabbè Fidatevi 9,50 euro Però Online L'ho presa di meno Mi sembra col 15 Sì Col 15 Di sconto Fa parte Della Degli Oscar Mondatori Contemporanea E Devo dire Che la copertina Non è male Ma Ma questo Non ci interessa Ah Questa L'altro Ecco Sto leggendo Dietro Anche L.A. Confidential È un romanzo Di Il Roy Cioè Si sono divertiti I registi Con il Roy Devo dire Non ho visto niente Tranne Black Dahlia Poi Veniamo Ah Gli affari Penso Di lasciarli Per ultimi Perché Ragazzi Non ho mai pensato Di comprare libri Così poco Cioè Mi stavo vergognando Quando ho cliccato Metti nel carrello Allora Un altro Tipo di romanzo Questo è un po' Anche di questo Hanno fatto il film Che io non ho mai visto Ma non mi interessa Perché ero molto incuriosita Perché invece ho sentito Su questo film Ottime Ottime opinioni Che bellissimo Poi ragazzi Che attore Ci lavora Vabbè Capite subito Quando ve lo faccio vedere Qualcuno volò Sul nido del culo Della Burr Romanzo Della Di Edito Burr Non è che l'ha scritto Burr Di Ken Casey 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 Non lo so Vabbè Siamo in Italia Non ci Allora 9,90 euro Anche questo L'ho preso A di meno Col 15 Ah non vi ho detto Le pagine Degli altri Vabbè Tanto stanno scritte Su Amazon Eh ma sì Su Sì Sui sì Questo è 3,93 Allora Molto curiosa Di leggerlo Ancora Non ho deciso Che è arrivato Il momento giusto Di acchiapparlo E leggerlo Però Sono incuriosita Vedremo Non ho visto il film Però Sento dire da tutti Che è un film bellissimo Vedremo Vedremo Allora Poi Quando vi ho detto Mi stavo vergognando A mettere A cliccare nel carrello Allora Ho preso Cioè Guardate che edizione Addirittura Lire 3000 Ai libri Della Newton Compton Quella biblioteca Economica Penso di 40 anni fa Malombra Allora Malombra È un romanzo Codico Di Focazzaro Focazzaro Per intenderci Lo scrittore Di piccolo mondo antico Del quale Mi hanno chiesto Di fare un video Non l'ho dimenticato Arriverà Ben presto Non vi preoccupate Che io Ci metto Tanto A A rispondere Alle vostre richieste Però Non demordete Non demordete Allora Malombra È un romanzo Codico Che ha scritto Focazzaro Io non sapevo Che avesse scritto Un romanzo Codico Non vedo L'ora di leggerlo Perché È Tra l'altro Questa edizione Integrale C'è scritto Quindi Già è piccolino Poi Se hanno fatto L'edizione Quella tagliata Figuriamoci Potete ben vedere Che è incartato Con il cellophane Cioè Vabbè Allora Questo Costava La modica cifra Di 3000 lire Ma Io Se non ricordo male Me lo sono aggiudicato Ad 1,90 euro Ad 1,90 euro Perché L'edizione è vecchia Evidentemente Era un fondo Di magazzino Però Alla fine Ma che importa Guardate Mi è arrivato Tutto Ancora con il cellophane Un bollino giallo Che non so che cosa sia Anche sull'altro libro C'era il bollino giallo Se qualcuno sa Cosa vuol dire Me lo dica Bollino attaccato Però alla plastica Alla fine Chi se ne frega Se è un'edizione Vecchia Stravecchia L'importante È che C'è scritto dentro La stessa cosa Che c'è scritta Nelle edizioni Di adesso Perché pagarle tanto Quando queste Ecco Te le porti a casa Con 1,90 euro E sei felice Veramente Mi stavo vergognando Quando l'ho Quando ho fatto Metti nel carrello Perché Dico No Si può 1,90 euro Diciamo che Diciamo che L'ordine L'ordine L'ho fatto Principalmente Perché avevo visto Questo e l'altro Che adesso vi faccio vedere Che erano Prezzi proprio Stracciati E poi perché volevo Prendere gli altri Due libri Di Martin Che mi rode Pagare gli 10 euro Quindi ho presi online Allora L'ultimo E qui Penso che Jessica Penny Lane Salti sulla sedia Perché grazie a lei Vi sono Incuriosita E convinta A comprare Questo libro Che Pagato Pochissimo Allora Ho preso Di Wilkie Collins La pietra di luna Allora Chi di voi Io Diciamo Sono stata Incuriosita Perché Ho letto Drude Di Ben Simmons Che è Ovviamente La storia Dove Il protagonista È Dickens E Wilkie Collins E si parla Tanto Dei romanzi Di Dickens Ma si parla Poco Dei romanzi Di Wilkie Collins Perché Non rendergli giustizia E leggere qualcosa Quindi Ho preso La pietra di luna Che è uno Dei suoi più Uno dei suoi romanzi Più famosi Non lo conosco Io Wilkie Collins Cioè Non ho mai letto niente Quindi Sembra Che la pietra di luna Ed un altro Che non mi ricordo La dama bianca Mi sembra Siano i più famosi Allora Questa è un'edizione Vecchissima Degli acquarelli I gialli Delle origini Io non pensavo Che fosse così alto Cioè Così Sostanzioso È vero Che è scritto largo Con tanti margini Però Sono sempre 605 Sì 605 pagine Allora Questo costava 14.000 lire Figuratevi Ma io l'ho pagato Fatemi ricordare Mi sembra 3,90 euro O giù di lì Poco Sì Poco Poco più Di Di malombra Non pensavo Veramente Che fosse così Che fosse Questo mattone Però Sono rimasta Piacevolmente Sorpresa Perché Nonostante A parte 3,90 euro Che questo Già rimani Sorpresa Per un mattoncino Del genere 3,90 euro Pensate Quanto Ci guadagnano Sopra I rifacimenti Delle copertine Rifacimenti Delle copertine Vabbè Ci siamo capiti Questa È un'edizione Vecchia Vediamo Prima edizione 1996 Allora Questa è un'edizione Del 96 La copertina Non è a rilievo Però è È ruvida È una vecchia edizione Acquarelli Gli acquarelli Penso che ci siano Ancora adesso Forse Sì Boh Comunque si trova poco Ancora Degli acquarelli L'ho pagata 3,50 euro Perché evidentemente Hanno fatto e rifatto Le copertine Questi sono i fondi Di magazzino Che si devono Togliere dalle scatole Però Anche se la copertina È vecchia L'importante è che Dentro la storia È la stessa Quindi perché Pagare 10 euro Quando con 3 euro Puoi avere la stessa cosa E tra l'altro Vi dico che è In condizioni Perfette Guardate gli angoli Un libro Se è maltrattato Lo vedi subito Dagli angoli Guarda qui Perfetto Questo è È solo Ingiallimento Perché è vecchio Guardate Guardate Questo l'ho fatto io Non è arrivato Così Questo l'ho fatto io Perché l'ho sbattuto Perfetto Anche questo Guardate Questo addirittura Col cellofan Dai che vogliamo di Addirittura col cellofan Quindi Perché Pensate Quanto ci guadagnano L'altra volta Stavamo parlando Sotto Sotto test Dei Darberville Con Mattia Silver Reflex Che lui L'unica edizione Che è riuscita A trovare È stata quella Con la copertina Ispirata Alle 50 sfumature Tu pensa Quanto ci stanno Guadagnando Sopra Oppure Pensa Quanto ci hanno Guadagnato Sui Tra virgolette I romanzi Amati da Bella Ed Edward Di Twilight Quindi Romeo Giulietta Orgoglio e Pregiudizio Pensa Quanto ci hanno Guadagnato Cioè A me Vabbè Se trovi solo Quello E vuoi Leggerlo Ovviamente È ovvio Ovviamente È ovvio Non si può sentire Neanche di sabato mattina Quindi volevo dire Ovviamente Prendi quello Perché se lo vuoi leggere Se sei incuriosita Vabbè Ce li spendo Però Se ci sono Tante altre edizioni E Vabbè Ti piacciono Le copertine Sono belle Obiettivamente Però Spendere Boh Non lo so Ma quanto te le fanno pagare Poi prendi Un'edizione normale E comunque c'è L'introduzione C'è la postfazione C'è La vita Dell'autore Ci sono C'è un'analisi Dell'opera Che vai a leggere Cioè È sostanzioso Magari Vai a prendere Questi Sfogli La prima pagina Inizia subito Il romanzo Nemmeno ti spiegano Che stai a legge Chi era il tizio Che ha scritto Quella roba Non ti dicono Niente Non c'è niente Quindi è proprio Un voler guadagnare Sul fatto che Quel particolare romanzo È stato menzionato In altri Che hanno fatto Boom Quindi Questa secondo me È uno degli esempi Solo per il rifacimento Della copertina Tu mi dici perché 3,50 euro C'è la stessa cosa C'è scritto la stessa cosa Però 3,50 euro Perché lo stai svendendo Perché la copertina È vecchia Pensa Questo è proprio Quanto ci guadagnano Sopra Ma noi siamo più furbi E noi ci attrezziamo Perché Noi Che Vaghiamo Per le librerie O per Sia quelle fisiche Che quelle online Per cercare queste cose Noi Diciamo che Teniamo botta Come si suol dire Quindi Ma Io sono rimasta scioccata Veramente Sono rimasta scioccata Che lo vai a comprare Questi libri Li vai a comprare Sì Obiettivamente Le copertine Sono bellissime Non c'è proprio Niente da dire Perché poi Anche l'occhio Vuole la sua parte Ragazzi è vero Indipendentemente Da quello che uno Possa pensare Se una copertina È bella È bella Però Non è giusto Che il prezzo Salga così Dai È spropositato Così come Cioè Che un romanzo Di un certo tipo Faccia riferimento Allora Che un romanzo Come Un romanzo Una trilogia Come 50 sfumature Che può piacere O non piacere Non è questo il discorso Che però Che rimandi A dei grandi classici E li faccia pubblicità Questo è ottimo Perché Io I classici Se più vengono Pubblicizzati E meglio è Perché Ce ne sono alcuni Molto belli Che magari Non hai mai sentito nominare Io per esempio Tess dei Darberville Non sapevo nemmeno Che esistesse Non sapevo chi era Thomas Hardy Io l'ho conosciuto Perché ho letto Le 50 sfumature Quindi Benvenga questo È un'ottima cosa Questo Così come in Twilight C'erano richiami A Romeo e Giulietta Ad altri romanzi Eccetera eccetera Ai romanzi Della Austin Benvenga Ma Non è bello Che Tipo Rifacciano queste Le copertine Rifacciano Edizioni Che ti fanno pagare 15 euro Solo perché Hanno rifatto La copertina Carina Quindi Non lasciatevi Infinocchiare Da queste cose No Vi dico proprio Infinocchiare Non lasciatevi Ingannare Guardate quello Che state comprando Dateci un'occhiata Dentro Se voi Ci avete davanti Un'edizione Che costa 5 euro E un'edizione Che costa 15 L'edizione di 15 Non c'ha Introduzione Non c'ha Postfazioni Non ha la vita Non ha la cronologia Delle opere Non vi spiega Quello che è andata A legge Che vuoi Comprata Fa Però Scelte personali Il mio consiglio È questo Guardate quello Che state comprando Lasciate perdere Le copertine Io L'ho comprato Uno di quei romanzi Con la copertina Rifatta Affinità Elettive Ho comprato Avrei Gradito Che mi si Spiegasse Un po' La vita Dell'autore Mi facessero Un'introduzione L'avrei Gradito Proprio Che qualcuno Avesse Speso Due parole Per quel romanzo Infatti Ci ho capito Niente Non mi è piaciuto E pazienza Non lo comprerò Più Quindi Ci ho sbattuto La testa Anche io E' per questo Che vi consiglio Di non sbatterci Anche voi La testa Guardate Quello che state comprando Sfogliate Questo È Questo Non La prefazione C'è Però Penso sia La prefazione Del romanzo Però A sto punto Chi se ne frega 3,90€ 3,90€ Che vuoi Pure che ti spiegano A questo Ci posso stare Ma ad altri No 3,90€ Ci posso stare Che mi Mi dai Solo la storia E basta 3,90€ Ci sto Ma 15€ No Cioè 15€ Apro il libro E Mi deve Cantare Le canzoni D'amore Va bene Detto questo Basta Ho finito La ringa Mi sto zitta Sono 21 minuti Non ci posso credere Ce l'ho fatta Quindi Questo era Ciò che Sono riuscita Ad accaparrarmi Tra Offertissime Delle quali Sono soddisfatta E Altre Cosine Quindi Spero che Questo video Vi sia utile Spero che Da questo video Qualcuno Possa trarre Spunto E Jessica Se tu hai letto La pietra di luna Dimmi solo se È bella o no Non mi dire nient'altro Però Sono curiosa Ci tengo a sapere Se ti è piaciuto o meno Se l'hai letto Speriamo che guardi Questo video Vabbè Eh però Tra l'altro La copertina È pure carina 3 ore e 50 No Sono soddisfatta 3 ore e 90 Sono soddisfattissima Vabbè Tra l'altro Sto cercando di capire Come funziona Google Plus Se Vedete qualcosa Di strano Nel mio canale Tipo Sparisce qualcosa Oppure Che ne so È perché sono io Che sto smanettando Per capire Come funziona Google Plus Niente paura Non me ne sono andata Almeno per ora Non me ne vado Va bene Un bacio Ciao